EA Sports, it's in the game. Ci prova di testa, attenzione, reti! Il portiere non ha potuto nulla e dunque il pallone è finito in rete. È saltato indisturbato, non era facilissimo ma ha approfittato della buona libertà, non ha avuto problemi a battere il portiere. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Il suo movimento lo salta di netto. Ecco il tiro, grande parata questa. Pallone che finisce in angolo. Grand tiro, il portiere, dice di no. Palla che finisce in angolo. Attenzione, difesa in difficoltà questa. Attenzione il tiro, grande intervento del portiere. Cross, pericolo, nulla da fare, autogol. Non si darà pace per questo errore, ma purtroppo sono cose che capitano. La ricerca si ripropone il gol da un'altra angolazione. La formazione di partenza del Toro. Scendono in campo utilizzando il modulo 5-3-2-7. Fischio dell'arbitro, c'è grande agonismo subito. Incredibile, traversa, non è finita.